Ben trovati nell'angolo dello sport. Una riflessione doverosa sul calcio mercato che è piaciuto alla maggioranza dei tifosi. Da parte sua il Presidente ha detto di aver fatto una ottima campagna acquisti e vendite e di aver fatto tutto in accordo e in sintonia con il mister Oddo, il quale Oddo da parte sua forse si aspettava almeno un centrale di difesa mancino e un attaccante, però ha anche detto che per lui va bene così. Se non doveva arrivare un giocatore importante era meglio non stravolgere gli equilibri dello spogliatoio e quindi lui dice di essere in grado comunque di proporre gioco propositivo, concreto, anche con questa rosa salvo poi vedere a gennaio che cosa bisognerà fare. Oltretutto mi sono divertito, e lo avrete fatto sicuramente anche voi a leggere la lista degli svincolati utilizzabili da subito e ci sono dei nomi molto importanti, sono dei trentenni di grosso spessore, ma questi trentenni di grosso spessore però hanno anche un costo, se non di cartellino quantomeno un costo di stipendio. E questo mi fa pensare qualcosa su Bergessio. Perché Bergessio di cui tanto parlano i tifosi pescaresi non ha raggiunto l'accordo con il Palermo, giusto per fare un nome, perché lui ha chiesto un milione e duecentomila lire, un milione e duecentomila lire sono una gran cifra, una società come il Pescara sicuramente non potrebbe farcela, anche se probabilmente sperano che Bergessio riduca le sue pretese, ma se le dovesse ridurre probabilmente potrebbe andare anche in qualche altra squadra. Ieri c'è stata la nazionale italiana, una delusione, lo avete visto, a parte il risultato ma anche a livello di gioco, però è stato interessante per me considerare la prima prova ufficiale della moviola in campo. Pare che così a conti fatti sia un'esperienza positiva, ma vedremo un po' nei prossimi mesi, nelle prossime esperienze che cosa decideranno. Comunque sia il futuro sicuramente è per l'elettronica in campo, non c'è nulla da fare. Una riflessione anche volante così sulla partitella con il San Nicolò, che come sapete è finita ieri 3 a 0 per il Pescara con i gol di Aquilani, Baebec e Mitrita. Perché è importante? Importante perché ci fa vedere che Baebec, quella che così simpaticamente potremmo definire una carta coperta, beh se dovessimo alzando la carta scoprire un asso giusto, beh insomma, insomma, è tutto da vedere. E i Manai e Baebec potrebbero essere per fortuna le soluzioni giuste per il Pescara, sempre che riescano a cacciare fuori il loro talento. Che dobbiamo dire ancora di più di questo Pescara? Diciamo che Coda intanto era in campo e quindi sta bene. Coda ha dimostrato molta sensibilità anche nei confronti dei tifosi, dicendosi dispiaciutissimo per l'errore fatto contro il Napoli. Errori che non ripeterà sicuramente, anche perché lui si aspetta un miglioramento fisico con tutto qui, insomma, questi sono giocatori, per esempio Campagnaro. Che gli vuoi dire a Campagnaro? Campagnaro è un signor giocatore con la G maiuscola. Fin quando starà bene fisicamente, Campagnaro sarà un elemento di forza del nostro settore difensivo. Quindi tutto sta in questo, vedere se andrà avanti bene fisicamente Campagnaro, se la stessa cosa succederà per Coda, però c'è questo ragazzo, 24enne dalla Roma, Kiobek, che insomma è anche un talentino, anche lui, anche se però contro il Sassuolo ha fatto pure lui una paparella e che insomma ci è costato poi il niente, perché poi il giudice ci ha dato i tre punti a tavolino e quindi è andata bene così. Comunque sia, il Pescara ha una settimana ancora di lavoro in più e poi se ne parlerà contro l'Inter domenica sera alle 20.45, mentre tutte le altre squadre giocheranno alle ore 15. è tutto, un affettuoso abbraccio a voi che seguite questa rubrica da Gianni Lussoso e un saluto e un ringraziamento al regista Leo Di Blasio. Appuntamento alle prossime edizioni di TVQ Sport.